Let's go bitch, se è da un po' che non faccio video e questo è un video spiegazione Come avrete già capito dal titolo, questo non è un addio ma è un arrivederci, è un vediamoci al più presto Allora iniziamo subito, perché non sto pubblicando video? Bene, sono successe un po' di cose nella mia vita privata che mi hanno tenuto lontano comunque dal giocare, dal pubblicare video E cose sia private, cose sia di studio, perché mi sto vicino comunque a dare degli esami, mi sono successe varie sfige in questo periodo di tutti i tipi Pure cose comunque di salute, quindi mi sto diciamo un secondo prendendo del tempo Oltre a questo tutti questi problemi messi assieme non è che diano proprio la voglia di continuare a giocare Ma è quello che io voglio fare ora, cioè iniziare comunque a giocare, poiché al momento mi sono fermato Come sapete voi non gioco al momento per nessun team Se voi ora pensate che io debba entrare in un team è una cosa un po' impossibile Prima cosa perché non entro in un team italiano? Vi ho già detto in un video, non voglio entrare e rompere gli equilibri in un team Cioè sarebbe sia una cosa da approfittatori, sia secondo me non sarebbe giusto verso quelli che comunque vogliono creare qualcosa di serio all'interno di un team Poiché io entrerei comunque approfittandomene solamente per fare video su YouTube Quando al momento invece preferirei aspettare la fine di Personal Gamer per poi entrare in un team E quindi partire con un nuovo progetto con questo nuovo team Cosa che poi saprete più avanti, infatti domani ci sarà una grande news a Milano Quando sarò alla Mondadori Oltre a questo se voi ora mi state chiedendo anche perché non entro in un team mestre Beh ho già perso il treno diverse volte Non sono, diciamo, ho perso il treno in che senso? Ho rifiutato tante volte ad entrare in un team mestre E quest'anno non è che mi sono fatto vedere tanto Perché in questo caso l'Italia non è che abbia giocato, abbia fatto tornei stranieri e così via Quindi è normale che un player italiano era sia di nicchia e non più come era su Black Ops 2 o Modern Warfare 3 Quindi avendo perso il treno per entrare in un team mestre Era inutile entrare ora che tra l'altro la stagione è quasi iniziata, anzi finita Ma non solo Quindi preferisco al momento aspettare e vedere dopo la fine di Personal Gamer cosa fare Cosa succederà al canale? Cercherò di caricare sempre video Ma in questo caso molto di meno Perché? Perché non ha senso pubblicare video di io che gioco da solo Quando il mio canale è nato per quelli che sono dei team Dove si gioca in team, in squadre, eccetera, eccetera Quindi dovete aspettare comunque che io entri in un team E questo succederà a giugno sicuramente E ci sarà una pausa nei video Questa pausa non so quanto durerà Cercherò comunque di fare magari qualche video a settimana In modo così che abbiate sempre qualcosa da vedere Ma ovviamente video sempre interessanti Se riesco con qualche team, magari facendo da pick up E oltre a questo ci saranno delle novità Non voglio dirvele ora Spero di dirvele la prossima settimana Lo so che vi sto facendo aspettare tanto Ma voglio iniziare dei nuovi progetti Che non riguardano solo Call of Duty Ma anche altri giochi Quindi io spero che abbiate capito questo video Non è un addio ragazzi È un arrivederci Spero al più presto di ritornare come un tempo Quindi vi saluto Bitches Al prossimo video